Nella cultura antica l'immagine del toro veniva universalmente associata al simbolo di forza, di vigore, di fertilità, che si legava inoltre a un profondo senso di venerazione e rispetto per questa creatura, che era vista come un elemento primordiale del cosmo. Nella media età del bronzo, all'incirca tra il 2000 e il 1450 a.C., nella creta che oggi convenzionalmente gli studiosi definiscono come minoica, esisteva un vero e proprio culto dedicato a questo animale, un rituale che, stando alle parole del professore emerito John Younger, aveva un ruolo fondamentale nelle pratiche spirituali del popolo minoico dell'epoca. La tauromachia, o se trasposta in termini artistici agonistici la taurocatapsia, vale a dire la pratica di effettuare un salto acrobatico al di sopra del toro scavalcando l'incorsa, è uno dei pochi ma preziosissimi esempi che l'arte minoica ci ha tramandato fino a noi dopo tutto questo tempo, e che testimonia dell'importanza sociale e religiosa che la società cretese assegnava al toro. Certo, questo tipo di venerazione, come anche l'arte da essa espressa, non erano sui generis dell'isola di Creta, basta pensare ai molteplici ritrovamenti pervenuti nella valle dell'Indo, nella Batriana e in Anatolia, databili all'incirca al secondo millennio a.C. Se ci fermiamo un attimo ad ammirare l'affresco della taurocatapsia nel Museo archeologico di Eraclion a Creta, possiamo subito comprendere quanto fondamentale fosse, per la scelta minoica, la necessità di dare ordine e logica al mondo naturale circostante, un mondo dove uomo e ambiente erano in completa armonia. Vivendo in un'area geografica turbolenta come quella del Mediterraneo orientale nell'età del bronzo, praticare riti che includevano il rapporto tra il caos dell'universo e la capacità dell'uomo di superare l'ambiente naturale con le proprie forze era un fatto piuttosto comune. Questo rapporto conflittuale con il cosmo e gli elementi della natura lo si poteva esprimere in varie forme, come ad esempio attraverso l'artigianato e l'arte. Grazie al mito greco e alle prove trasmesse dall'archeologia, gli studiosi dell'arte hanno potuto strutturare e guidare in modo migliore la nostra comprensione della cultura minoica. Dagli studi condotti da personalità di primo piano come Evans o Kleiner, viene fuori che i minoici vedevano il toro come la rappresentazione concreta di una divinità della terra. Analizzando da una parte il famoso mito greco di Teseo e del Minotauro e dall'altra il rituale spirituale agonistico di scavalcare letteralmente il toro, si può affermare che la divinizzazione minoica del toro è incontestabile. L'esistenza del re Minosse e del mito del Minotauro è ancora oggi grande oggetto di dibattito, ma nella storia minoica questo legame si dimostra comunque da una connessione di lunga data con il tema del toro. Stando alla versione del mito, il re Minosse, re di Creta e figlio di Zeus ed Europa, temeva di perdere potere e importanza all'interno del proprio regno e pertanto chiese a Poseidone un toro da sacrificare sul tempio costruito sulla spiaggia per poter sovvertire l'inesorabile corso degli eventi. Quando poi effettivamente un toro bianco emersi dalle acque del mare così bello e aggraziato, Minosse non trovò il coraggio di immolarlo e sprecarlo in onore del dio e decise di tenerselo per sé. L'ovvia reazione di Poseidone non fu positiva, non approvò quanto fatto da Minosse e lanciò una maledizione a Pasife, la moglie del re, la quale si innamorò, guarda caso, del toro. Il Minotauro, metà bestia e metà uomo, divenne così il frutto del loro orribile rapporto. Minosse, preso dalla follia, rinchiuse la bestia nel famoso labirinto di Knosso e, come sappiamo tutti, il mito ci riporta che, alla fine, il mostro, dopo anni di terrore nei confronti dei cittadini atenesi che dovevano versare un tributo di sette fanciulli e sette fanciulle all'anno da dare in pasto al Minotauro, fu ucciso finalmente dall'eroe Teseo. Bene, questo mito dimostra la soggezione e al tempo stesso il fascino che i minoici nutrivano per il toro bianco, quello che oggi in termini scientifici chiameremmo toro albino, e quindi la sua eterna bellezza e la sua potenza, dal momento che nel mito il toro consegnato da Poseidone a Minosse apparteneva chiaramente a un altro mondo, quello sovrannaturale. Tornando un attimo alla pratica essenziale di dimostrare abilità e agilità nelle feste religiose che si tenevano nella creta minoica, e cioè la tarocatapsia, lo studioso McGillivray ha ipotizzato che il salto del toro fosse un'attività che, data la sua importanza sociale, dovesse tenersi in qualche modo nella corte centrale del palazzo reale, o comunque nelle vicinanze immediate, considerata la prossimità di un affresco così notevole e suggestivo rinvenuto su una parete interna del palazzo stesso. Dal suo punto di vista, l'origine di questa pratica potrebbe risiedere nella rappresentazione simbolica delle prime battute di caccia e nell'addomesticamento del toro selvatico, come segno del controllo che l'uomo era riuscito a prevalere sulla natura. In questo, chiamiamolo tra virgolette sport, che era il salto del toro, le donne erano incluse, e non dobbiamo sorprenderci che l'immagine femminile dominasse nell'iconografia del periodo, soprattutto in una società che valorizzava le donne molto di più che nelle altre culture contemporanee o successive. Negli affreschi, infatti, avere come soggetti principali uno o più donne cretesi era una cosa molto comune, e questo era facilmente identificabile grazie al colore della pelle pallida in contrasto con le tonalità più scure e cromatiche delle loro controparti maschili. Descritto come una gara tra l'uomo e il toro, il salto era visto come un rito in cui l'uomo cercava di superare il caos dell'universo per arrivare a instaurare un'armonia con la divinità scesa in terra, il toro. Non è chiaro se effettivamente il particolare tipo di salto che si vede nell'iconografia fosse un'acrobazia fattibile o comunque più praticabile nei fatti che negli ideali. Vale a dire, un conto è dipingere un atleta nudo che, afferrando il toro per le corna, viene scagliato in aria grazie allo slancio dato dal movimento della testa dell'animale e che riesce a fare una capriola sul dorso del toro. Un altro è compiere invece con grazia e compostezza questo tipo di movimento. E' anche vero che comunque questo tipo di pratica sussiste tutt'oggi in forma ridimensionata in luoghi come la Francia e la Spagna. Un'altra magnifica rappresentazione artistica di questa pratica che oggi possiamo ammirare al British Museum è cioè una statuetta in bronzo, raffigurante un saltatore sopra le corna di un toro, databile all'incirca tra il 1600 e il 1500 a.C., cattura in modo naturale il movimento di quella che molti hanno identificato come una donna sul dorso di un toro in carica. I dettagli che colpiscono lo sguardo sono la schiena arcuata dell'acrobata e i suoi arti sospesi nell'aria, come anche i capelli che lo scultore ha sapientemente fatto ricadere sulla fronte del toro. Grazia e agilità sono i veri soggetti di questo pezzo, così come l'essenza di una connessione spirituale tra il toro e l'acrobata. Questa unione spiegherebbe l'immenso valore che i minoici attribuivano all'armonia tra uomo e natura. Per fare un altro esempio, le libagioni, vale a dire le offerte sacrificali di cibo e altri tipi di animali, erano una pratica molto comune a Creta, come nel resto della Grecia, e con esse si esprimeva la devozione dell'uomo nei confronti delle divinità e del mondo sovrannaturale. In occasioni ordinarie si utilizzavano vasi di pietra finemente decorati o vasi in ceramica di uso quotidiano, ma in occasioni molto più importanti si utilizzava quello che veniva chiamato Riton, una tipologia di contenitore a forma di testa di toro utilizzato per versare il vino o l'acqua della libagione. Un esempio noto di Riton ben conservato è quello del Palazzo di Knosso. Splendidamente realizzato con una varietà di materiali preziosi, la testa del toro in questo oggetto rappresenta una vera e propria analisi artistica, potremmo dire quasi naturalistica, della fisionomia del toro. Secondo le pratiche comuni, dalla testa attraverso il collo si versavano sul suolo le offerte votive, come vino, acqua, olio d'oliva o latte. A quel punto il fedele beveva le ultime gocce che rimanevano nel contenitore della bocca del Riton. Uno dei reperti archeologici più interessanti di tutta l'area di Knosso sono le cosiddette corna della consacrazione, un'espressione cognata dall'archeologo Arthur Evans. Evans giunse alla conclusione, dopo aver notato numerosi casi simili in contesti minoici e micenei, che le corna della consacrazione costituivano un elemento di arredamento piuttosto ricorrente negli oggetti utilizzati dai minoici nei loro rituali, derivante proprio dalle corna dei buoi sacrificati. Le corna della consacrazione si trovavano in luoghi di primaria rilevanza, come ad esempio gli ingressi delle città, i portoni dei grandi palazzi, e ciò avrebbe contribuito, secondo Evans, a creare un confine ancora più netto tra il regno umano, vale a dire quello della società di palazzo, e quello divino, il mondo sconosciuto e pericoloso che stava al di fuori delle mura protette dalla presenza vigorosa delle corna del toro. Certamente bisogna anche aggiungere che l'idea per la quale la comunità godeva della protezione di un animale metà bestia e metà uomo non era un'invenzione originale della cultura cretese. Nelle civiltà mesopotamiche, in particolare quella a Syra, le porte di accesso ai complessi residenziali vantavano figure gigantesche in pietra, degli enormi guardiani posti a difesa dei signori di palazzo. Questi spiriti protettivi erano chiamati Lamassu e potevano essere rappresentati in modi più o meno svariati. Potevano ad esempio avere il corpo muscoloso di un toro con le ali spiegate e particolarmente elaborate, con sopra la testa di un essere umano. In modo analogo al simbolismo delle corna della consacrazione, possiamo trovare un rimando ancora più antico nella mitologia egizia, nel caso della dea Hathor, che nelle raffigurazioni artistiche a noi arrivate sfoggia spesso delle corna bovine che circondano un disco solare dai colori accesi. Oltre ad essere la dea dell'amore, della gioia, della musica e della danza, Hathor è anche la dea della maternità, del cielo e della fertilità. Ed è interessante notare come lo studioso Hart, nel suo saggio sulla mitologia egizia, abbia evidenziato una stretta connessione tra questa figura con il toro bianco, simbolo della fertilità che Minos, infatuato, aveva voluto preservare. Facciamo un attimo un salto indietro, o per meglio dire una taurocatapsia. E approfondiamo un attimo la questione del toro senza però soffermarci su altri aspetti, perché preferisco in questo senso concentrarmi su argomenti specifici e singoli senza divagare troppo, perché da un tema apparentemente banale come la venerazione del toro nella creta minoica potremmo divagare anche su questioni archeologiche. Potremmo parlare di Schliemann, Evans, le civiltà e già in generale, la Grecia micenea e così via. Detto questo, all'inizio esperti del periodo minoico come Geraldine o Klein pensavano che il culto del toro fosse limitato alle aree antistanti o comunque prossime il palazzo reale di Knosso. Ma lo studio e l'analisi di palazzi come quelli di Festo e Malia, sempre a Creta, o anche quelli della villa di Ayatriada e altri importanti siti come ad esempio Zacros, Armenoi e Pseira, ha dimostrato che il fenomeno era abbastanza diffuso in tutta l'isola. Il tema ricorrente del toro ha affascinato l'uomo sia prima che dopo l'interità del bronzo. Le pitture rupestri paleolitiche di Lascaux in Francia, che raffigurano la forza e la ferocia dei bisonti, sono state datate intorno al 13.500 a.C. mediante l'analisi del radiocarbonio o comunque, grosso modo, nel periodo del paleolitico superiore. Le civiltà fiorite successivamente in Anatolia e in Mesopotamia tra il 6.000 e il 2.000 a.C. ci hanno fornito poi moltissimi esempi, anche eclatanti, di immagini editori. A partire dai vividi murales di Cataluyuk fino ad arrivare all'intricata e delicata testa dorata di un toro proveniente dalla città di Ur. Il tema del toro è rimasto per secoli un leitmotiv indiscusso nelle opere d'arte del Vicino Oriente, culminando nei monumentali tori alati dell'età neoassira, di cui si è fatto menzione prima. Ci sono state numerose speculazioni sul possibile significato magico-religioso di tali manufatti. Gli antichi egiziani praticavano il culto religioso di Api, una divinità dalla forma di toro adorata nella zona di Menfi, e veneravano anche un certo Mnevis, un altro spirito divino minore che prendeva le sembianze di un enorme toro nero. Dopo il tramonto dell'età del bronzo nell'area Aegea, i popoli etruschi nella penisola italica decoravano i loro arrei di funerari con scene di tori dalle forme variegate e più simili a quelli della civiltà cretese. Sempre andando avanti nel tempo, anche l'esempio dei vasai greci del VI secolo a.C., che tendevano a raffigurare alcune tra le scene mitologiche più stravaganti nelle loro ceramiche, dimostra che, a farla da padrone, era il tema di Teseo e del Minotauro, come evidenziato dal vaso François a figure nere, da una parte, e dalle ceramiche a figure rosse attribuite al pittore del V secolo, Panaitius. E se ci pensiamo bene, il toro ha poi continuato ad avere un significato molto importante fino all'epoca di Roma. Catone racconta della cerimonia contadina dell'allustrazio, ossia la pratica della pulizia e della purificazione della terra, in cui un toro sacrificale viene portato a giro per il campo arato, prima che il suo sangue venga sparso sul terreno. La grande quantità di immagini di tori che sono state trovate a Creta ha incoraggiato gli archeologi a riconsiderare alcuni oggetti estremamente simili che si trovano in altre aree del mondo. In particolare l'attenzione si è concentrata su due coppe d'oro, chiamate micenee, scoperte nel 1889 a Bafio, vicino Sparta, circa 20 anni prima dell'inizio degli scavi a Knosso. Questi vasi riccamente lavorati raffiguravano scene molto simili a quelle rinvenute a Creta, specialmente a quelle presenti su Unrition di Ayatriada. Il primo rilievo delle tazze auree di Vafio mostra quello che apparentemente è un toro con la zampa posteriore legata e un secondo toro leggermente piegato poco dietro di lui. Ma questo secondo toro, è stato notato, sarebbe in realtà una mucca, probabilmente utilizzata come richiamo amoroso, come trappola, per attirare il toro, che sarebbe stato poi abilmente imbrigliato da un gruppo di ladruncoli locali. La seconda coppa rappresenta invece i Cacciatori, nel tipico stile cretese che metteva in mostra una vita sottile, che tentano di intrappolare un toro appendendo una rete tra due alberi. Sul rilievo successivo sembra quasi che il toro sia caduto preda dell'agguato, ma la scena finale rivela che l'animale è riuscito a liberarsi, talpestando tra l'altro uno dei suoi aspiranti rapitori. L'elemento da portarsi a casa e sul quale gli studiosi hanno tratto le loro conclusioni è che il tema, le figure e lo stile di lavorazione sono tutti tipicamente cretesi, nonostante la loro ovvia collocazione al vafio nel Peloponneso, il che dimostrerebbe però la pervasività del culto del toro di stampo cretese nel bacino mediterraneo. Probabilmente le coppe sono state importate da Creta o comunque prodotte sulla terraferma da orafi cretesi. Poi il lavoro molto delicato della Chiappatori, chiamiamolo così, è rappresentato in modo molto simile su uno dei rilievi che possiamo ammirare sul Rition di Aya Triada nel sud di Creta. Qui un giovane viene ritratto vicino a un toro, ma non è coinvolto in alcuna forma di attività atletica. Lo si vede piuttosto intento a cercare di catturare il toro e un dipinto trovato su una placca di cristallo a Knosso mostra con tutta probabilità una delle corde che si utilizzava tipicamente all'epoca per catturare i tori. La somiglianza con il soggetto delle tazze auree di vafio è inevitabile e ci fa riflettere sul fatto che probabilmente all'epoca lavorare a stretto contatto con i tori non era una cosa fuori dal comune. Sa di fatto che il più controverso dei ritrovamenti di Knosso è il famoso affresco della taurocatapsia che abbiamo appena accennato all'inizio video. Realizzata intorno al 1500 a.C., la scena è stata individuata in un piccolo recinto nell'ala occidentale del Palazzo Reale e si pensa che un tempo facesse parte di un fregio molto più ampio. Sir Arthur Evans non aveva dubbi sull'interpretazione di questa straordinaria scena e affermava che si trattava inconfondibilmente, sulla base di quello che poteva vedere, di un salto mortale effettuato da una ragazza che, dopo aver afferrato le corna del toro, si slancia all'indietro sulla schiena dell'animale. Considerando però le meccaniche fisiche della ginnastica, un'impresa come quella descritta da Evans sembra altamente improbabile. Molte autorità, tra cui Sir Dennis Page e il professor Chadwick, hanno sostenuto che sarebbe stato fisicamente impossibile, anche per l'atleta più allenato, eseguire una capriola all'indietro lungo il dorso di un toro che sta caricando a piena potenza, tantomeno farsi prendere al volo da un assistente alle spalle dell'animale. Gli storici dell'arte hanno sostenuto che la scena può essere spiegata in termini di scarsa capacità dell'artista di saper mostrare la prospettiva, e questo spiegherebbe le posizioni apparentemente irreali dei partecipanti. Ma la domanda che forse noi contemporanei ci poniamo quando osserviamo con stupore queste opere d'arte è perché? Per quale stravagante motivo un giovane dovrebbe rischiare la pelle saltando al volo un toro? Da una prospettiva semplice e concreta, poteva trattarsi di un'esibizione di abilità atletiche, un po' simile se la trasportiamo avanti nel tempo alle gare olimpiche nella Grecia antica o alle corse dei carri a Roma, dove il vincitore guadagnava fama, gloria e soprattutto prestigio sociale. L'obiettivo della taurocatapsia era quello di spronare il toro alla carica, per poi saltare in avanti, in alto, nel momento cruciale, alzando le gambe in modo da permettere al toro di passare al di sotto senza alcun contatto. Questa manovra poteva anche avere successo, a patto che il toro non stesse caricando a grande velocità. In alternativa, alcuni hanno suggerito una visione meno radicale, nella quale gli acrobati avrebbero eseguito delle capriole e dei salti mortali sul dorso del toro, mentre l'animale però era fermo, oppure avvicinandosi ad esso da un angolo al di fuori del suo campo visivo. Ma fosse anche stato così, il rischio di morire o di subire gravi lesioni doveva essere spaventosamente alto. Tralasciando il discorso spirituale e l'importanza data al toro, forse noi non sapremo mai l'esatta natura di questa pratica in epoca cretese, anche perché, come è stato osservato con ironia, pochi atleti di alto livello al mondo oggi sembrano disposti a mettere alla prova le teorie al riguardo. La ricercatrice e professoressa Barbara Olsen smentisce però dal canto suo la pericolosità di questa pratica e ne contraddice l'effettiva esistenza, sottolineando che la tauromachia o taurocatapsia nei fatti fosse soltanto un'esagerazione artistica e che in realtà si trattasse simbolicamente di un rituale di iniziazione per i giovani adolescenti che appartenevano alle alte classi editarie. E siccome gli unici dipinti che abbiamo a disposizione testimoniano l'immagine di un salto riuscito e mai di una carneficina, secondo la Olsen sarebbe stato un controsenso condannare un giovane aristocratico a una pratica così rischiosa. Tralasciando un attimo l'interessante visione della Olsen, se però diamo per buona l'idea di una pratica così pericolosa nella società cretese, la domanda che possiamo porci è gli atleti hanno partecipato di loro a spontanea volontà o sono stati costretti a farlo? La tauromachia era una forma raffinata di sacrificio umano? Sebbene gli studi sulla mitologia greca ci forniscano uno spaccato molto interessante sulla questione, è difficile rispondere a questo quesito sulla base delle semplici prove archeologiche. Sembrerebbe improbabile che i cretesi praticassero dei sacrifici umani in onore del toro, dato che non lo veneravano come una divinità particolarmente significativa. Allo stesso modo rimane aperto il problema della partecipazione volontaria degli atleti che non può quindi trovare una risposta certa. Per quanto riguarda invece l'ubicazione su dove veniva condotto questo genere di spettacoli, abbiamo poche informazioni chiare e precise al riguardo. La civiltà cretese non ha prodotto nulla in termini di arene o strutture dove potessero svolgersi esattamente queste pratiche atletiche, almeno per quanto ne sappiamo. Si è ipotizzato che a Knosso l'area tra il fiume Kairatos e le sale del palazzo poteva essere un luogo adatto per la messa in scena di tali eventi, ma lo poteva essere anche nel caso dell'ampio cortile centrale del palazzo stesso. L'esame della planimetria di altri palazzi, in particolare quelle di Festo e Malia, rivela una costruzione simile nella forma delle strutture e non fornisce quindi una soluzione definitiva al problema. Tradizionalmente si pensava che il salto del toro fosse messo in scena soltanto a vantaggio dei membri della corte reale, ma secondo l'opinione moderna invece l'evento si sarebbe svolto molto più probabilmente in pubblico. Quindi gli sport con i tori erano solo un mezzo di pur intrattenimento? Oppure avevano un significato molto più profondo? In una scena rinvenuta su un sarcofago in pietra calcarea nella villa di Ayatriada si può notare un toro legato e appoggiato su un tavolo sacrificale, mentre una sacerdotessa è in procinto di offrire la libagione sull'altare. Da ciò si deduce che il toro difficilmente sarebbe stato concepito nella creta minoica come un animale sacrificale se fosse stato una divinità a sé stante. I abitanti di Creta, come quelli di molte altre società antiche, riconobbero il toro come simbolo di forza e probabilmente credevano che il sangue del toro avesse certe proprietà magiche. Recenti lavori sulla lineare B, come quelli condotti da Francigignat, sostengono che i cretesi venerassero i prototipi di alcune delle divinità che possiamo rintracciare nella stessa Grecia classica, e che la loro importanza religiosa traesse la propria origine a partire dalle antichissime pratiche di venerazione della madre terra, in pratica l'alfa e l'omega della natura in sé per sé. Dare al toro uno status particolare all'interno della società significava valorizzare il mare, gli animali, come anche la pesca e il raccolto, cioè gli elementi più importanti per una comunità che si fondava sul commercio e l'agricoltura. Che il toro occupasse un posto di rilievo in una società del genere era del tutto comprensibile. Il suo potere e la sua forza erano un tassello di grande valore nel mosaico del mondo naturale venerato dai minoici. Il discorso potrebbe protrarsi all'infinito se solo volessimo portarlo avanti, ma per concludere, stando a quanto detto da Evans nel corso dei suoi studi, il toro aveva per gli antichi cretesi un significato ancora più grande di quanto non sia mai stato dimostrato. Nel seminterratto di una piccola casa di Knosso, Evans trovò i resti scheletrici della testa di due tori, le corna di uno dei quali, ci dice Evans, erano più grandi di un metro e mezzo di circonferenza. Prendendo spunto da una frase del canto XX dell'Iliade, vale a dire «nei tori si diletta Poseidone, lo scuotitore della terra», Evans ha ragionato sul fatto che doveva esserci una stretta connessione tra il muggito di un toro e il fragore dei terremoti, a cui la creta dell'età del bronzo, come sappiamo dalle rivelazioni archeologiche, era spesso soggetta. Evans stesso ammise di aver sperimentato delle scosse, in cui è qui cito un suono sordo sgorgava dal terreno, come il rombo vattato di un toro arrabbiato. Sembra quasi il rumore di quello strumento di tortura che era il toro di Falaride. Certo, forse il romanticismo cominciava a prendere il sopravvento sulla ragione di Evans, ma, dopotutto, dobbiamo per forza di cose eliminare la possibilità, seppur minima, che i cretesi potessero provare sensazioni simili quando sentivano il verso di un toro. Quest'ultima considerazione di Evans non è certo una spiegazione scientifica dell'importanza antropologica del culto del toro in sé, ma ripensando un attimo alla reverenza e alla soggezione con cui le società antiche e rurali trattavano il toro, vedendolo come un simbolo di potenza e fertilità, e considerando le oscillazioni sismiche nell'area Aegea, siamo proprio sicuri di voler respingere del tutto quest'idea?